Gentili telespettatori, buona giornata. Uno giornale scrive il futuro dell'Unione Europea passa da Giorgia Meloni. Vi ho detto che è molto probabile che Giorgia Meloni, capo politico dei conservatori europei che si sta, è già d'accordo con il PPE, ed è molto probabile che vincano le elezioni fra 11 mesi e 10 giorni. Molto probabile. Sarebbe un cambio epocale in Europa, comanderebbe il centrodestra in Europa per la prima volta, la Meloni diventerebbe potentissima, la donna più potente del mondo, la nuova Merkel, ma molto più tosta. Quindi un'Europa a guida italiana, un'Europa dove l'Italia avrebbe un prestigio assoluto. Eh, come vi ho detto in questi giorni, però non è gratis. Non è gratis. Non è gratis. Va bene. Piaccia o non piaccia alla sinistra, scrive il giornale di destra, altro che isolata l'Italia in Europa, il futuro assetto dell'Unione Europea passa da Giorgia Meloni. Quindi la Meloni che ha creato un partito, l'ha portato al 30%, è diventata prima capo politico dei conservatori in Europa, poi capo del governo italiano, adesso nella sua escalation di ambizione manca solo diventare quella che gestisce e comanda l'Europa intera. Caspita, come il risico, no? Con i tuoi? C'hai tutta l'Europa. Eh beh, insomma, poi diventi l'interlocutrice di Biden e delle superpotenze, perché diventi a capo di un gruppo di 27 stacchi. Non lei direttamente, non è che la Meloni sarà il presidente del Consiglio dell'Europa o il capo dell'Europa, però lei da dietro le quinte gestirà l'Europa, perché metteranno, lei e il PP, metteranno a guidare l'Europa persone che dicono loro. Ecco. Attenzione, non cambierà niente sull'immigrazione clandestina, perché guardate che decidono poi i paesi. Quando si decide, beh, adesso cambiamo le regole, facciamo un blocco navale europeo, per esempio, no? La Meloni vince le elezioni, dice adesso blocco navale europeo, eh? E i 27 paesi dicono no. E lei cosa può fare? Niente. Sei il capo dell'Europa, ma non puoi obbligare i paesi né a fare il blocco navale né a prendersi i clandestini che fa entrare l'Italia. Parliamoci chiaro, l'Europa non impedisce neanche all'Italia di fare il blocco navale. Il blocco navale non lo si vuole fare proprio per non infastidire i futuri alleati per conquistare l'Europa. E allora è questo il prezzo, ve l'ho detto tante volte, il prezzo di diventare la nuova Merkel è quello di non fare nulla sull'immigrazione clandestina, ma fare tante cose che non servono a niente. Una stretta sui permessi di soggiorno, facciamo lo stato di emergenza, queste robe non servono a niente, è solo polverone, no? Tu fai polverone così, alzi la polvere con la scopa, tu dici cosa hai fatto? Hai pulito la casa? No, ho solo alzato la polvere. Perché lo fai? È per farti vedere che sto facendo un sacco di roba. E questa realmente è la realtà. Pertanto c'è un costo per far diventare la Meloni il capo dell'Europa, c'è un costo non indifferente. e ovviamente il blocco navale lo si può fare, ve l'ho detto tante volte. Ovviamente diciamo che possiamo dire questo, allegare la partita nazionale a quella europea provvede anche il delicato momento del centrodestra italiana. L'entrata dell'ECR, di cui Meloni ha capo in Europa, nella prossima maggioranza dell'Unione, oltre che dall'esito dell'Europea, dipenderà dall'accordo con il PPE, Partito Popolare Europeo, a cui appartiene anche Forza Italia. Ma questa alleanza c'è già, questo accordo c'è già, e pertanto i conservatori in Europa sono in ascesa, i loro voti fanno gola, il cambio di gruppo però è un'ipotesi molto difficile. Perché Fratelli Italia intende rimanere dov'è? Ma con l'alleanza e la collaborazione del PPE è un matrimonio con Forza Italia, la strada per la guida dell'Europa è aperta, e anzi è molto probabile. L'asse in Europa si sta spostando a destra. Io vi dico la mia opinione, poi naturalmente io non sono il capo del governo, la Meloni ha vinto le elezioni e oggi governa il Paese e ha il diritto, dato dal voto degli italiani, di intraprendere alcune scelte. Lei può fare, non fare il blocco navale, può fare questo, non fare quello. Guardate, vista la situazione che è diventata insostenibile, io se fossi al suo posto, piuttosto che diventare il nuovo Merkel d'Europa, preferirei fare bene il mio lavoro da capo del governo, io fermerei l'immigrazione clandestina andando a fare accordi con i paesi. La da sola l'Italia, io se fossi al posto della Meloni farei salario minimo, in modo da dare un lavoro retribuito in maniera degna a tutti gli italiani che lavorano. Poi le aziende ce l'avrebbero con me? Non mi frega niente, ho le spalle larghe, ce l'avete con me che sono un cattivone perché voglio che le persone siano pagate in maniera degna? Bene, tanto onore, ecco sono gradi che mi metto qua, difendere le persone. Io non sono contro le aziende, attenzione, anch'io ho avuto un'azienda, anch'io in parole povere sono anch'io un'azienda, pertanto non ho nulla contro le aziende, ma io non ho dipendenti. Se dovessi avere un dipendente la prima cosa che farai è dargli uno stipendio degno, se no lascio perdere. Io per avere dei dipendenti come schiavi preferisco non avere un'azienda. Io se dovessi assumere una persona la andrei a pagare il giusto sopra quello che sono i contratti nazionali, quindi io farei il salario minimo e farei accordi da solo con il Nord Africa per un blocco navale. L'Europa non è contenta di me, non vinco le lezioni in Europa, me ne può fregare di meno. Ecco, diciamo che quel prima gli italiani è diventato prima l'ambizione personale. È un po' come aver preso un pugno in faccia, è un po' come aver preso uno sberloni, ma come? Non era prima gli italiani? No, prima prima vengo io. Ah, vabbè, insomma, cari amici, cari amiche, insomma, ci ho creduto anch'io, ci sono cascato anch'io, non solo voi, ci sono cascati tutti. Grazie a tutti e arrivederci a presto.